e' la prima volta di con la fede della multinistica è una quale 300 metri signori con il gruppo degli infattori e entra sotto eh la fede di un cittadino la fede di un cittadino il primo passaggio signore e signori in distanza c'è stato un po' di silenzione con la fede di un barato tipo fino tipo fino Grazie a tutti.